Buonasera a tutti, è veramente bellissimo inserire questo momento prezioso da noi della Prologo che riguarda appunto la prevenzione del punto di vista dell'anno dopo aver ascoltato e gustato questa serata magica. Quest'anno per la Prologo decidere chi premiare come punto di vista dell'anno è stato facile, direi naturale e spontaneo. Allora, nella nostra sienta siamo stati guidati dal sentimento della bontà, ma attenzione parlo della bontà che non fa rumore e che pochi come lei hanno saputo donare. Infatti, il filo conduttore della vita di Camilla è sempre stato spirito di solidarietà, generosità, concretezza e gusto della vita. Tutti l'abbiamo conosciuta per la sua disponibilità, senso civico, rispetto e onestà. Di questi tempi in cui c'è sempre chi fa la voce grossa e si impone, Camilla no. Camilla ha sempre lavorato in silenzio per il bene della nostra collettività e le persone come lei non fanno certo notizia. Del resto Camilla non ha mai cercato niente, nemmeno la riconoscenza. Camilla è stata una persona che, operando con modestia e semplicità, ha contribuito in modo speciale alla valorizzazione del nostro Paese, che tanto amava. Fondatrice della Proloco, ne è stata fino alla morte la Presidente. Si è dedicata a molteplici attività, collaborando sempre con tutte le associazioni del nostro Paese. Camilla, stasera crediamo che tutti i montodinesi si stringono in una grande famiglia. Come piaceva a te per dirti ancora grazie e come è il solito dire nelle grandi manifestazioni, facciamo un caloroso applauso. Stasera il nostro caloroso applauso è per te e ti giunga ovunque tu sia. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori. Ora invito il Sindaco e la Presidente della Proloco a consegnare la tarda del Montodinese dell'anno 2015 a un componente della famiglia Acchini. Grazie. Grazie. Applauso. Grazie. Grazie.